Il cap secondo lui è una gran bella cosa perché vuol dire che c'è una ricchezza dentro il procedere storico della ragione, una ricchezza che il razionalismo costruttivistico mette in atto benché non la veda. Allora il pensiero dialettico che è il pensiero che pensa il costruttivismo, non pensa contro, pensa il costruttivismo e lo sviluppa, invece il pensiero dialettico delle potenzialità che stanno nel corteo bachico della ragione è ben consapevole. Oppure si può dire che il fatto che la modernità sia un'epoca, un tempo sospeso in cui l'agire e il pensare producono un'istanza tecnica che è tendenzialmente progressiva e che tuttavia incontra continuamente ostacoli e attriti, da ciò si può tirare fuori un'altra tesi, la tesi del pensiero negativo, cioè che quello che conta, l'essenza dell'epoca è per l'appunto del suo essere insensata e di una insensatezza radicale non emendabile. E qui naturalmente ci fermiamo perché non possiamo dare soluzione all'interrogativo di che cosa vuol dire essere nella modernità e abitare un tempo vuoto che è il tempo stesso tempo di progresso e tempo di accidentalità. però abbiamo forse impostato la domanda. Dentro questo tempo ha senso che ci stiano entrambe le ipotesi architettoniche che mi avete presentato perché dentro questo tempo l'elemento architettonico costruttivo è fondamentale e al tempo stesso è estremamente contingente. nel terzo paragrafo del mio paper prendevo invece in considerazione l'elemento dello spazio, la dimensione dello spazio, come chiave per spiegare le aporie o comunque sia la dialettica della progettualità e qui non ho potuto resistere alla tentazione di scrivere una mezza pagina sopra i padri della nostra professione di filosofi, Platone e Aristotele. perché in entrambi molto più, molto, molto più, che la dimensione del tempo rileva la dimensione dello spazio. Il tempo è un'invenzione cristiana e poi moderna. Lo spazio c'è sempre stato. C'è sempre stato naturalmente all'interno della, dopo la rivoluzione del Neolitico, prima invece c'era il tempo, c'era uno spazio tutto diverso, ma insomma lasciamo stare. Platone, il nesso. Però voi capite che a questo punto diventa ancora più chiaro che il gioco è a tre, non a due. Cioè non c'è solo il gioco fra politica, committenza da una parte e progettazione, esecuzione architettonica dall'altra. Questa dualità la stiamo interpretando attraverso un terzo, che è la filosofia del tempo, prima, e adesso dello spazio. E vi dicevo il rapporto fra spazio e filosofia è solido e antichissimo. Tanto che non sarà un caso che Platone istituisca un fortissimo rapporto fra la geometria e la filosofia. E quindi poi con la politica, perché per Platone il rapporto, perché la filosofia a sua volta è signora della politica, è politica, è costretta a essere politica. E mentre in Aristotele c'è, chiarissimo, in apertura dell'etica nicomachea, cioè di una delle opere più importanti, c'è l'equazione aperta fra la politica e l'architettura con la filosofia, che però fa un gioco un po' diverso. Vediamo un po' più da vicino. Platone, quando parla di architettura in senso proprio, cioè nel politico, distingue l'architettura con un'attività tecnica del costruire, la distingue dalla politica, che è per lui la scienza teoretica idonea a dare ordini. E vabbè, qui parla dell'architettura. Nel politico ha voluto sottolineare che quello che gli interessa del rapporto fra politica, filosofia e spazio non è la tecnicalità. Nella Politeia, quella che chiamiamo Repubblica, invece, l'architettura scompare, sostituita dalla geometria. La geometria diventa una delle discipline della ratio studiorum, dei filosofi, e ha come oggetto la conoscenza, dice lui, di ciò che sempre è. La conoscenza di ciò che sempre è. Però, stiamo attenti, è una conoscenza dianoetica, non dialettica. Cioè, ancora una volta, in quanto tale, la geometria, quando è praticata dai geometri, che sono coloro che studiano la geometria piana, ma anche la geometria solida, ma anche proiettano le relazioni spaziali nel cielo e fanno gli astronomi, quando è in mano a questi, è una tecnica. Cioè, ragiona intorno a principi, ma li adopera in chiave ipotetica. Cioè, per fare delle supposizioni, per fare delle ipotesi, per conoscere a scopo di utilità. Quando, invece, la geometria è in mano al filosofo, ovvero sia al dialettico, colui che pratica l'ultimo grado della ratio studiorum, cioè, appunto, la dialettica, quando è lì, nelle mani del dialettico, la geometria diventa sostanzialmente il sapere. E questo lui ce lo dice in due modi. Dicendo che quando non è sorretta dalla dialettica, la geometria si muove come una sonnambula, e quando, come sappiamo, fa scrivere sull'architrare dell'accademia, la filosofia è un'idea di spazio saputo come lo spazio in cui un sapere supremo, la filosofia, perché è sapere delle idee ed è al tempo stesso sapere di ciò che è oltre le idee, cioè sapere del bene, è lo spazio in cui la filosofia, e solo la filosofia, può disporre le tecniche, tra cui la geometria, e comandare, perché disporre ha senso se sai e il sapere ti fornisce la legittimità per comandare. Per cui è un sapere, la filosofia è politica, perché è un sapere dello spazio. Un sapere dello spazio che è a base geometrica, ma che per noi, con i nostri occhi, è un sapere sostanzialmente architettonico. Che cos'è la Callipolis? La città ideale è la città in cui le anime dei singoli cittadini e l'intera struttura della città sono state e vengono continuamente disposte, ben disposte l'anima, ben disposta alla città. Vengono continuamente ben disposte, in modo tale che ciascuno abbia il proprio posto, e solo quello, e faccia soltanto ciò che sa fare, e quello che egli sa fare glielo dicono i filosofi che sono capaci di conoscere le anime, e in questa città ben disposta si realizza una organizzazione, diciamo così, spaziale, che è la stessa cosa che la politica, che è la stessa cosa che la filosofia. ripeto, anche se l'architettura come tale è citata di sfuggita, è la geometria, è la parola chiave in questo ambito platonico, e geometria vuol dire tanto una tecnica quanto l'idea che senza spazio non avviene nulla, e che invece il sapere filosofico è sapere pratico, cioè è sapere politico, in quanto conosce lo spazio e vi dispone le tecniche, vi dispone le diverse forme dell'agire. Aristotele, come sempre, anche qui, dipende da Platone e al tempo stesso allenta le maglie, allenta le maglie del discorso, comincia l'etica nicomachea dicendo che la politica è una scienza architettonica, ripetendo che è la scienza architettonica più autorevole, e dice che l'analogia di fondo tra politica ed architettura sta nella facoltà di entrambe di disporre, ordinare e orientare le tecniche. E adopera il verbo diatassein, che significa per l'appunto organizzare e disporre, mentre l'attività del comandare, cioè architettone, non è nominata, cioè la politica ha in generale la funzione, la dimensione dell'architettura, cioè ha a che fare con la costruzione, però poi dentro questo quadro generale della politica, chi comanda non è semplicemente colui che sa, è troppo qui Aristotele si distacca da Platone, chi comanda sono nei casi diversi, nei casi diversi, come dice lui, caso per caso, ora uno, ora pochi, ora molti, secondo le circostanze, secondo le consuetudine, le disposizioni, insomma, secondo i luoghi. certo, la politica è architettonica, cioè consiste nell'organizzare l'uomo e lo spazio urbano a un fine, e il fine è quello che per Platone era la felicità del conoscere, per Aristotele è quello che lui chiama eusen, eupratein, vivere bene, agire bene. e dunque politica architettura. La filosofia non si lascia catturare del tutto dalla politica, la filosofia è ancora superiore e ciò consente ad Aristotele di dire che l'architettura e la politica si assomigliano perché dispongono, ma poi la vera e la concreta attività della politica, cioè il comandare, una volta che sappiamo che è un comandare per disporre e disporre per vivere bene, una volta che sappiamo questo, l'attività vera e propria del comando non nasce dal sapere, ma nasce da circostanze di volte in volte diverse e in ogni caso è vietato pretendere, esigere dalla politica la stessa certezza radicale, traslucida, perfetta che si ha quando si fa la filosofia e qui c'è proprio la polemica con Platone, cioè va bene essere filosofi, ma bisogna lasciare un po' di respiro al mondo, salvare i fenomeni. Questo solo per dire che il rapporto della politica con l'architettura, cioè con lo spazio. È un rapporto antichissimo e in età moderna, come l'età moderna era l'età del tempo vuoto, così è l'età dello spazio vuoto. E qui prendiamo non Ops, ma Cartesio. Cartesio che ci serve su un piatto d'argento nel discorso sul metodo quell'immagine degli splendidi edifici della filosofia antica costruiti su sabbia e fango. Costruiti su sabbia e fango, cioè in rovina. E invece e dunque gli splendidi edifici antichi sono in rovina. Gli edifici che sono costruiti attraverso un sovrapporsi cronologico di architetti che restaurano, riadattano, ristrutturano. Sono edifici brutti, casuali, instabili, privi di un progetto. Mentre invece l'optimum è che si costruisca, che un singolo architetto costruisca in modo completamente nuovo innovativo qualche cosa di nuovo su, dice lui, su un fondo tutto suo, su un pezzo di terreno tutto suo. Ecco, questo è l'analogo spaziale di quello che vi avevo detto nel tempo, il tempo della costruibilità perché tutto è possibile. Qui abbiamo lo spazio della costruibilità perché lo spazio è stato messo e vuoto, è un vuoto davanti al quale dobbiamo avere come atteggiamento fondamentale quello di mantenerlo vuoto, sgomberare il terreno per costruire qualche cosa sulla base di un progetto razionale unitario. Allora, la differenza rispetto a Hobbes è che Cartesio era timido e non si sogna di sottoporre anche la politica a questa logica. Mentre in Cartesio abbiamo la filosofia è architettura, in Hobbes che da questo punto di vista assomiglia a Platone abbiamo la filosofia è architettura ed è politica. Ma, insomma, Cartesio apre una strada se poi si vuole fermare dopo un po' è un problema suo. In quella strada sta scritto che una volta aperta, una volta iniziata e una volta portata fino in fondo sta scritto che l'età moderna è l'età in cui l'uomo quando vede un bosco vede una segheria. Cioè è l'età in cui esiste non esiste spazio sacro non esiste una qualità dello spazio in cui esiste soltanto la coazione a decostruire e a costruire e a considerare nulla ciò che viene prima cosa che Hobbes dice continuamente. Hobbes che tra l'altro di tutte le scienze solo della geometria diceva che c'era stata data direttamente da Dio in forma innata. Allora modernità come lo spazio vuoto lo spazio in cui giganteggia il soggetto costruttivistico ma ancora come vi ho detto per quanto riguarda il tempo anche per quanto riguarda lo spazio ciò è al tempo stesso vero e non vero. nel senso che la politica moderna è sicuramente tecnica cioè è sicuramente costruzione razionale ma proprio poiché lo spazio moderno è uno spazio privo di senso cioè è uno spazio in cui può succedere di tutto lo spazio moderno è tutt'altro che liscio omogeneo e ugualmente costruibile come esso pretende di sé e qui abbiamo appunto il novecento decostruttore che ci dimostra come la spazialità moderna nel suo essere lo spazio della costruibilità è al tempo stesso lo spazio delle differenze anzi anzi la costruibilità è c'è perché ci sono le differenze la costruibilità cioè la razionalità dell'abitare nello spazio moderno è possibile perché da qualche parte si formano perché questa costruibilità nasce a sua volta da una decisione da una decisione differenziante cioè da una decisione che distingue fra gli spazi della costruibilità e gli spazi invece della natura selvaggia cioè detto in chiave politica gli stati moderni sono tutti degli imperi hanno senso si pongono come stato cioè come costruzione razionale della cittadinanza uguale in Europa perché non nonostante perché si comportano in modo opposto in spazi non europei negli spazi delle colonie dove non c'è la costruibilità ma c'è la rapinabilità con anche l'idea che le tecniche di rapina di assoggettamento che si pongono in essere negli spazi non europei possono essere utilmente impiegate anche nello spazio liscio della costruibilità europea oppure per dirla ancora in modo più semplice con lo schmidt del nomos della terra il nomos della terra nell'età moderna che lui chiama l'età dell'unius publicum europeum è il fatto che la terra viene distinta fra la terra europea dove c'è la differenza fra stati qualitativamente omogenei e la terra non europea che viene che è oggetto di possesso coloniale oltre che la differenza tra terra e mare cioè tra il continente europeo e l'inghilterra non solo ma al di là di questa grande dimostrazione che la spazialità moderna sotto il profilo geopolitico è una spazialità fratta e discontinua noi abbiamo ma l'abbiamo con Weber addirittura l'idea che la razionalità costruttivistica moderna è intrinsecamente portatrice di ritardi e di attriti secondo Weber una delle due dinamiche fondamentali del moderno una è quella dell'acquisizione capitalistica della produzione capitalistica l'altra è quella della statualità questa seconda che è costruttivistica che tuttavia ha un'origine oscura cioè ha un'origine illegittima perché è una rottura con i criteri della legittimità premoderna ma a parte questo questa idea moderna della politica come costruzione spaziale come costruzione in uno spazio in cui si può e si deve costruire non è per niente un'idea chiara e distinta perché invece che dimostrarsi manifestarsi questa costruibilità razionale politica come la edificazione di uno splendido palazzo si manifesta attraverso si manifesta come la costruzione di una quella che lui chiama gabbia d'acciaio e la gabbia d'acciaio è la gabbia delle infinite coazioni interne alla modernità se la modernità è in sé la coazione dal punto di vista spaziale la coazione alla costruzione questa coazione alla costruzione non si manifesta in modo lineare si manifesta attraverso la coazione a produrre infinite coazioni minori diciamo così tutte razionali per carità e tutte tali che messe insieme producono di nuovo rallentamento se fossimo in un ambito di tempo e producono frazionamento dello spazio disunione poiché siamo appunto nell'ambito spaziale la gabbia d'acciaio è precisamente l'insieme delle coazioni burocratiche alle quali siete andati incontro voi architetti nel vostro progetto allora come la linea diventa labirinto come il tempo della grande decisione si frantuma nel tempo delle contingenze così lo spazio della costruibilità si apre si fessura si infittisce di ostacoli attraverso il riprodursi di quella che sembrava la logica architettonica chiarificatrice cioè la logica burocratica cioè il costruire canoni criteri procedure grazie alle quali l'agire dovrebbe essere ancora più tecnicamente razionale bene questo invece non va a finire dove vuol finire va a finire da un'altra parte va a finire non nell'edificio ma nella gabbia ed è precisa e dunque non nell'uniformità ma nella molteplicità il che ho detto in un altro modo lo spazio liscio omogeneo costruibile si rivela appunto un labirinto e come scrivevo ormai nella parte finale del mio paper non è un labirinto del giardino l'italiano bello razionale che visto dall'alto ti fa capire che c'è la mano dell'uomo ma una selva dalla quale si può uscire certamente ma un po' per caso e soprattutto diversi e con un percorso diverso da come ci si è entrati eterogenesi dei fini altro che progresso lineare e verso una direzione tanto che si adoperi l'idea del tempo quando si adoperi l'idea dello spazio no eterogenesi dei fini dunque attraverso il tempo e lo spazio abbiamo detto che quelle due ipotesi di funzionamento della della macchina progettuale moderna Speer e voi proprio nella loro diversità appartengono allo stesso tempo e allo stesso spazio cioè la stessa epoca e ne portano alla luce le intrinseche contraddizioni intrinseche non esterne e queste contraddizioni non ci fanno uscire dall'epoca non sono contraddizioni che facciano saltare le coazioni epocali le manifestano questo è l'oggetto questo è il risultato della critica come io mi sforzo di praticarla se uno dice ma tu devi praticare una critica che oltre che far vedere l'emergere delle contraddizioni epocali le superi allora vi dico che forse è impossibile attraverso la critica fare ciò ma che in ogni caso non basta la critica dello spazio non basta la critica del tempo è necessario introdurre anche reintrodurre anche la critica dell'economia politica di un'economia